E adesso ci spostiamo ad Alcamo, la pista ciclabile e la sua vita tortuosa, le critiche non solo della minoranza ma anche da parte di quattro consiglieri di maggioranza, quindi quale futuro per la pista ciclabile e politicamente per la maggioranza nella quale sembra esserci una spaccatura? Lo abbiamo chiesto a Laura Barone, vicepresidente della terza commissione e a Rosalba Puma, presidente della quarta commissione, nonché abbe due consiglieri di maggioranza dei Cinque Stelle che nel recente passato si sono espresse criticamente in un comunicato sull'azione amministrativa della Giunta Surdi in riferimento alla pista ciclabile, in particolar modo sulla mancanza di comunicazione sul processo che ha portato ad essa. Più di una spaccatura, io preferisco parlare di una posizione politica ben definita da parte di consiglieri che nel pieno mandato elettorale che hanno ricevuto da parte della città di Alcamo hanno voluto dire alla città la loro posizione in merito alla mancanza di partecipazione e condivisione nella realizzazione della pista ciclabile, in quanto trattandosi appunto di mobilità, quindi un aspetto che coinvolge tutta la città, la città doveva essere coinvolta. Quindi allora mancanza di comunicazione con la città, ma a questo punto mancanza di comunicazione tra la maggioranza è la Giunta che appoggiate? Sì, più volte comunque sono state sollecitate, sono state anche esposte delle difficoltà che sono state riscontrate proprio in prima persona nella gestione della pista ciclabile e noi oltre che far parte comunque della maggioranza abbiamo cercato anche di onorare il ruolo di consigliere comunale che ci è stato dato dalla città. Siamo abituati che le spaccature diventano partite. Questo non si può sapere, al momento noi abbiamo preso questa posizione e continuiamo a mantenerla, sì alla pista ciclabile, sì alla mobilità sostenibile, sì alla mobilità alternativa, ma seguendo comunque un percorso giusto attraverso un progetto che sia specifico, che parli di pista ciclabile e attraverso il coinvolgimento innanzitutto di tutto il consiglio comunale. Un ultimo atto della discussione sulla pista ciclabile è in commissione, o meglio nelle commissioni. Sono venute fuori delle informazioni che probabilmente se non fosse stato per la commissione noi e la città non avremmo avuto. Per esempio in commissione è venuto fuori che il progetto del cordolo, resosi inizialmente necessario, almeno così si era detto in passate sedute della quarta commissione consigliare, per rendere la pista ciclabile in sede propria, adesso si è avuta notizia che non sarà più portato avanti, perché si parla, almeno così hanno detto i dirigenti, di corsia riservata. C'è un passaggio, l'accesso agli atti, di solito viene fatto dalle opposizioni. Prima di essere un consigliere di maggioranza, io sono un consigliere comunale e quindi la città mi ha dato questo mandato. L'accesso agli atti è una delle possibilità che io ho per raccogliere informazioni e nella massima trasparenza verso la città abbiamo ritenuto anche di fare un accesso agli atti formale. E quindi qual è il futuro per questa pista ciclabile? Perché ormai addirittura certuni dicono che sia diventata inutile. Sinceramente io non lo conosco, nel senso che si spera a tutti che sia attivata il prima possibile, quando che in realtà se dovessimo far fede all'ordinanza emanata dalla Polizia Municipale si dovrebbe per ora utilizzare ma a senso unico. In commissione stessa non si è parlato più di cordolo ma si è parlato di semafori a chiamata. Ritengo che probabilmente sul tema sarebbe anche necessario fare, perché no, una seduta di commissione al mese, perché come abbiamo visto se certe informazioni non vengano recuperate con questi strumenti probabilmente non le avremmo mai avute.